Bambino rapito dal Papa? Tutte le balle del film di Bellocchio, di Rino Camilleri. Mi dicono che il film di Bellocchio è sbilanciato a sinistra. Neanche Spielberg, visti gli atti, aveva usato. Bah, le polemiche servono a far vedere il film, anche se stantie. Ecco, infatti, che cosa scrivevo nel 2005 sul mensile Il Timone. Ai tempi di Pio IX, gli stati prelevavano i figli maschi da ogni famiglia per la leva militare triennale o per mandarli in guerra. Kavur, in Crimea, si alleò coi turchi, che da secoli toglievano ogni anno un figlio alle famiglie cristiane sotto il loro dominio e li allevavano nell'Islam per farne giannizzeri. I russi, per contenere l'irridentismo polacco, portavano i piccoli cattolici in collegio ortodossi. Gli inglesi mettevano gli orfani dei loro militari irlandesi cattolici in collegio anglicani. Tolsero i figli al poeta Shelley, ateo e di vita scandalosa, per chiuderli in collegio anglicano. Gli svedesi battezzavano di forza nel luteranesimo i non battezzati. Negli USA era normale vendere i figli degli schiavi neri. Eppure tutti questi protestarono vivamente per il caso Mortara. Giovanni Paolo II se lo sentì rinfacciare all'ingresso per la prima volta nella storia nella sinagoga romana. E un'intera pagina del Washington Post lo ammonì a non beatificare il rapitore di bambini, Pio IX. Quel caso determinò la fondazione della prima organizzazione ebraica mondiale di autodifesa, che offrì una grossa somma a chi avesse tentato in Roma un raid per liberare il rapito. Libri e libri sono stati scritti per deprecare quella infame violenza perpetrata da Pio IX, e ancora vi si insiste. Vittorio Messori è andato a cercare l'autobiografia del diretto interessato, la testimonianza, quasi il verbale di una singolare avventura. Quella di uno scuro bambino ebreo, per il quale si batterono un papa, un imperatore, re, ministri, ambasciatori, principi della stampa e del foro, cardinali e massoni, teologi e rabbini. Io, il bambino ebreo rapito da Pio IX, che bell'occhio dice di aver letto. Morto nel 1940, il rapito si era fatto prete, aveva preso il nome di quello che considerava il suo padre spirituale, Pio, ed aveva chiarito una buona volta quella storia cominciata a Bologna, quando neonato in fin di vita era stato segretamente battezzato dalla cameriera. Ora, le leggi dello stato pontificio cui apparteneva a Bologna vietavano ai cristiani di servire in case di ebrei e viceversa, proprio per evitare casi come quello. E ancora oggi, le norme canoniche proibiscono i battesimi senza il consenso dei genitori, tranne in case di pericolo di morte. Torniamo al piccolo Edgardo Mortara, sopravvisse miracolosamente e la faccenda si riseppe. Poiché il papa è prima di tutto un prete, tutti i battezzati gli stanno a cuore ed è responsabile di fronte a Dio della loro anima. Come scrisse Luis Villot, il grande giornalista, l'affare ricordava ai cattolici che hanno banalizzato la verità di fede, quale sia l'importanza del battesimo. Pio IX è disposto a perdere tutto quanto resta dei suoi stati, ma non a permettere che si perda un'anima, fosse anche quella di uno scuro bambino. Così, la famiglia Mortara fu invitata a iscrivere il loro figlio ormai cristiano in una scuola cattolica cittadina. Cresciuto avrebbe liberamente scelto se tornare nella religione ebraica. Da notare a Impassant che di lì a poco il futuro regno d'Italia avrebbe introdotto la scuola dell'obbligo, esistente ancora oggi, e combinante sanzioni penali ai genitori che non ottemperano. Ma scoppiò il caso, di cui si impadronirono quanti avevano interesse a spingere Immortara all'intransigenza. Allora il papa fece portare il bambino a Roma, assumendosene personalmente il padrinato. I genitori potevano visitarlo quando volevano, e lo fecero, smettendo solo quando si accorsero che Edgardo non solo non intendeva tornare indietro, ma anzi voleva farsi prete. La stampa liberale soffiò sul fuoco, parlando di plagio, e addirittura insinuando che il piccolo fosse stato castrato per fare una voce bianca nella cappella Sistina. Protestò persino il rabbino capo di Roma, Sabatino Scazzocchio, scrivendo al padre del bambino e dicendogli che, se si fosse rivolto a lui, dati i suoi rapporti cordiali col papa, la cosa sarebbe stata risolta senza tutto quel clamore. Infatti gli ebrei vivevano pacificamente a Roma da duemila anni. Di più, quando nel Medioevo e nel nascimento erano stati cacciati da tutti i regni d'Europa, erano stati benevolmente accolti proprio a Roma. Nel 1849 la comunità ebraica romana aveva preso le distanze dall'effimera repubblica mazziniana che aveva costretto alla fuga il papa. E nessun ebreo romano si era trasferito nei molti paesi europei in cui viveva l'equiparazione giuridica. Ma ormai era troppo tardi. Il padre del rapito veniva generosamente finanziato per girare il continente e tenervivo lo scandalo, di cui va detto, proprio in quei tempi così difficili, la chiesa avrebbe fatto volentieri a meno. Ma la gerarchia, allora, temeva più Dio che gli uomini. Non a caso, i Mortara si trasferirono a Torino e poi nella nuova capitale Firenze. Proprio qui, per uno strano scherzo del destino, un'altra cameriera si infilò nella vita dei Mortara, il cui capofamiglia venne processato e assolto per omicidio, accusato di aver aiutato un amico a gettare dalla finestra una domestica. Quando i piemontesi entrarono in Roma nel 1870, una delle prime loro preoccupazioni fu quella di andare a liberare il rapito, scoprendo con sconcerto che quello non ne voleva sapere e, anzi, si era fatto prete. I superiori ecclesiastici ritennero prudente farlo riparare all'estero, dove venne visitato anche da Don Bosco. Fu qui che Don Mortara vergò il memoriale che Messori ha resumato e tradotto dallo spagnolo. Il Mortara era poliglotta. Così recita il sottotitolo, appunti storici accompagnati da una bella apologia del grande pontefice di santa e grata memoria. Scritti dal reverendo padre Pio Maria Mortara, canonico regolare di Sant'Agostino della congregazione del Laterano. Di suo pugno? Leggiamolo dunque per chiarire una buona volta le idee a chi ancora, pelosamente, si straccia le vesti per questa vecchia storia.